Oggi parliamo dell'edera, edera helix in latino. L'edera è una pianta infestante, come vedete in questa quercia dietro di me la sta praticamente soffocando, ma è anche una pianta ornamentale, infatti viene coltivata da sempre e ha molti molti significati e utilizzi. In particolare nell'antichità era il simbolo del dio Bacco, che è il dio del trasporto mistico e amoroso, dell'ebrezza, della passione, non per niente è anche il dio del vino. Infatti si usava e si usa ancora mettere alle porte delle vendite di vino e della produzione di vino, quando nelle case e per tutto un tempo si faceva il vino, si metteva alla porta un rametto di edera. Un altro uso tradizionale era quello di fare una corona di edera e mettersela in capo per combattere gli effetti di una grande ubriacata. Quindi adesso in onore del dio Bacco continuiamo a registrare con una bella corona di edera in capo. Purtroppo vedete dalla quercia dietro di me che per l'abbandono dei boschi l'edera sta un po' regnando sovrana. In un bosco abbandonato l'edera ha la meglio su piante anche enormi come quella che vedete dietro di me. Ma come dico sempre io le erbacce non esistono e quindi l'edera ha anche proprietà medicinali e proprietà ornamentali. Attenzione con le proprietà medicinali perché in genere l'edera è velenosa, quindi va usata con molta molta cautela. Una scoperta molto recente dimostrata dalla NASA, l'Agenzia Spaziale Americana, è il fatto che l'edera ha la capacità di purificare l'aria. Infine un piccolo proverbio sull'edera. Come l'edera al muro si attacca, il mio cuor da te non si stacca.